Ciao Luigi Contessa, quello che volevo dire è che spesso ormai la risposta che ci viene dalla pubblica amministrazione è che non ci sono i soldi, quindi necessariamente bisogna ricorrere al privato per fare qualsiasi cosa, anche per tenere, mantenere, ma semplice, spiaggia non ci sono i soldi, è una questione di scelta, si sta andando verso un mondo dove i profitti vengono, restano i privati, mentre si socializzano le perdono, volendo le risorse si trovano per fare cose pubbliche, con libero accesso ai cittadini e non c'è necessariamente bisogno di un'arrivata. Grazie 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 Grazie